ciao amici benvenuti cucina con mauro oggi vedremo come preparare il risotto al parmigiano vediamo assieme gli ingredienti 100 grammi di riso 20 grammi di parmigiano 10 grammi di burro e del brodo vegetale andiamo alla preparazione prendiamo la padella mettiamo sul fuoco mettiamo il riso a far scaldare quando vediamo che il riso è caldo mettiamo il tratto deve essere bruciato iniziamo a mettere il brodo mettiamo poco 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 per volta per meno si assorbe e lascia di più lasciare una bella crema ecco che il brodo si è consumato e lo mettiamo nel lato e così via fino a fine cottura poco per volta ecco che il riso è cotto adesso andiamo a masticare con il burro l'ho messo nel freezer e il parmigiano sempre a fuoco spetto ecco che il riso è pronto andiamo ad impiattarlo ed infine andiamo chi piace chi vuole con la spolverata di parmigiano sopra andiamo alla prova dell'assaggio ecco il nostro riso buono a te lo ecco che vuole con la spolverata di parmigiano sopra ecco che vuole con la spolverata di parmigiano sopra ecco che vuole con la spolverata di parmigiano sopra